...unico questo, il titolo di apertura del mattino, il Presidente della Cattina Scioglia, Aette e Sottotitore, sì, alla città e società pubblica, il Parlamento della Lutea, parole che hanno anche il palco sconcio e il Polignano, soprattutto i vecchi militanti dell'Alleanza Nazionale, poi la stampa, il quotidiano di Torino, anche in questo caso più l'apertura dedicata al compresso di Alleanza Nazionale, del PDL, no al pensiero pubblico, finiti della storia di Aette, quindi nell'uomo partito senza corretti. Concluiamo con la gazzetta del Mezzogiorno, quindi anche i costoni, richiede no al punto della personalità, poi, come vedete, anche spazio riservato alle foto, spazio riservato alle foto versione di Marcello Lippi che ignora Cassano per l'incontro del primo abilievo, con il problema che si tirerà allo stadio San Nicola di Marcello. È tutto per questa sinistra, ma grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.